...e una diversità di Peta, di Peta e di Peta. Ringrazio Pette per la sorpresa in quanto altro facendomi tornare, guardando indietro, con questa iniziativa che si ascrive all'epoca la nostra realtà, la collaborazione con Pette, che ha già un'iniziativa che è un momento di distanza e di presa interamente o con il sindaco di Sottopuca, che ha già proposto, e che ha già fatto anche il Peta. Bene, è un appuntamento epigenziale, noi iniziamo come società di manovere questa nostra prima lega con una serie di iniziative che si è più capitata, che è un'escolta, 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 che è un'escolta. La minerva, non c'è un'escolta, che è un'escolta, che è un'escolta, che è un'escolta, che è un'escolta. Quindi credo assolutamente di farlo. Fa parte di un esplorzamento che tutti e noi stiamo portando avanti per quanto riguarda gli aspetti di rilancio di un'immagine di cittadino, sapendo si sta sempre proponendo con un luogo vista, con abbracchi croceristici, con un turismo commerciale, con tutta una serie di iniziative che credo che hanno ragione di posizione di un'escolta per il futuro per lo spettacolo della società. Scusate, il mio brado è un'escolta. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.